buonasera ragazzi deluso deluso al massimo per questo napoli che mi aspettavo quasi in più dopo le quattro schiaffi che milano ci ha dato in campionato mi aspettavo una reazione d'orgoglio soprattutto non dico una paliata perché difficile una partita equilibrata la prevista una partita equilibrata lo è stato tecnicamente 1 a 0 però il milano sono finito a 2 a 0 per il milano non aveva privato niente il milano perché poi c'è stata anche attraversa di kaj kajer come cazzo si chiama il porto di difensore svedese la danese anzi poi invece noi poi poi è stato il gran gol di ben nasser su grande contropiede napoli era partito bene siamo fatti il codice fiscale di georgiava siamo mangiati un gol per clamoroso secondo me si è mangiato non lo veste poco lui si è fatte anche troppi di troppo sempre l'assoluto di riping molto egoista la squadra in seri in attacco non cambia atteggiamento per il ritorno 1 a 0 abbiamo perso però sperando che uno si manna la squadra abbia più sicurezza dei propri mezzi però è anche grave il fatto che se manca così meno la squadra in questi appuntamenti così decisivi viene meno e purtroppo un attacco come attacca di centrali fuori di rasparori non è adeguato simeone è infortunato si ma purtroppo sembra quasi che tutta l'azione del napoli si catalizza su simen e finalizza su simen è sbagliato una grande grande club un grande squadra dove punta solo su un attaccante offensivamente parlato è vero che comunque tutte le grandi squadre hanno un grande attaccante quindi simen con napoli con simen poi ci dovrebbe essere anche un giusto impiazzi ma simen manca allora che cazzo non è che il milano attacca a piacirulli che giustamente ha fatto qualche gol pesante non è che sia un attaccante da 20 30 gol come l'esimena come attualmente asumendo detto questo arbitraggio veramente ridicolo arbitraggio di nostro non vogliono più fare il pianisteri vittimismo pianisteri ma se notate più il milano ha fatto più falli del napoli la partita abbastanza equilibrata anche a livelli dei falli però sono più ammuniti del napoli che quelli del milano addirittura un'espulsione di ganguista che secondo me è stata esagerata abito inadeguato il strumento del cazzo è inadeguatissimo proprio al a questo grande appuntamento secondo me peccato peccato che stai rovinato un abito incompetente ci sarà il ritorno speriamo che il napoli possa ribaltare il risultato ci si augura e vi soprattutto possa arrivare in semifinale per la prima volta nella propria sabidemia abituato a arrivarci napoli mai arrivato quindi già molti siamo arrivati qua detto questo forza napoli con molta delusione comunque sempre forza napoli